Ciao, sono Luca Scari, sono allievo di Tiziano Zanotti. Io alcuni anni fa, suonando con un paio di gruppi e facendo sempre più concerti dal vivo, ho sentito l'esigenza di migliorare. Ho sentito l'esigenza di migliorare anche per non far finta di essere un bravo musicista, ma proprio per essere un vero musicista. E quindi ho cercato qualcuno che mi aiutasse. Ho trovato in internet questa scuola qua di Bologna, il Basla.it, ma incuriosito perché è una scuola specifica proprio per bassisti e contrabassisti. Niente, ho preso contatti e ho iniziato. Ho capito subito, dopo le prime lezioni, ho capito da subito come era forte questo programma qua, perché è molto strutturato molto bene, molto progressivo, va avanti portando avanti tutto, dalla base fino al primo metodo, per esempio, che sono più metodi ideati da Tiziano e messi a punto per l'insegnamento. Dal primo volume, una volta fatto il primo volume, è fatta la certificazione, che c'è prevista anche questa cosa qua, eventualmente se uno la vuole fare, che sarebbe molto meglio, perché fissi quello che hai studiato. Già con il primo volume mi ha aperto il mondo, perché è contramente progressivo, porta avanti tutto, porta avanti la teoria, porta avanti l'Earth Training, porta avanti gli stili, tutti gli stili, le divisioni ritmiche, la lettura, tutto, ed è tutto correlato insieme. Anche la teoria, che può essere una palla, però è molto importante, è messa proprio in pratica, cose che io non facevo, io conoscevo delle cose, conoscevo le scale pentatoniche, le ciclo delle quinte, così, però in realtà non le mettevo in realtà in pratica. Adesso invece le metto in pratica, adesso sono consapevole, consapevole di quello che faccio e anche di quello che mi succede intorno, cosa che è molto bello essere consapevoli, perché ti dà sicurezza e di conseguenza quando sei più sicuro, lo trasmetti, lo trasmetti anche agli altri, quindi anche i solisti si appoggiano a te, si affidano a te. Il basso è la colonna portante di un ensemble, quindi è bello, è bello sentirsi sicuri di quello che fai. Niente, io mi sento di consigliare a tutti quelli come me, che voglio migliorare e voglio migliorarsi, e voglio fare il vero musicista, di contattare il bassista contemporaneo. Ciao!